Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per trasporto eccezionale tra l'incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Nord. Possibili disagi inoltre per incidente in uscita da Rezzo nelle due direzioni. In Fipili segnaliamo veicolo fermo in avaria tra Ponte d'Era Ovest e BVOSGC Fipili della Mazzione Pisa in direzione Mare, possibili rallentamenti. Arriviamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Signa. I treni in linea registrano ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social. Nel nome inoltre che il treno 18-890 Faenza-Firenze è cancellato per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo. I viaggiatori utilizzano bus sostitutivo. Prima di salutarci ricordiamo che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle strade di gran parte della Toscana. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città per la portata di Chirenze e il comune di Chirenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.